Sono Riccardo Schiesaro, sono atleta di arti marziali vispe, sono l'istruttore del combat team di Alessandro De Blasi. Combat team sul campo da quando le MMA sono arrivati in Italia. Siamo i primi in Liguria ad avere una gabbia di allenamento. Per praticare le MMA ci vuole l'umiltà. L'umiltà di capire che non è una ma è molte discipline. Noi prepariamo gli atleti in queste singole discipline. Interveniamo selettivamente per colmare le carenze e per rafforzare il talento. Non basta il fuoco dentro per praticare le MMA. Se hai la voglia e l'umiltà di praticare questo sport, siamo la scelta giusta. Grazie a tutti.